In ogni epoca storica, in maggiore o minore misura, si sono verificati fenomeni migratori. Nel mondo antico, la fondazione di grandi civiltà è dipesa dalle migrazioni. Nella vicenda dei popoli che hanno vissuto sui territori euroasiatici e mediterranei, il definitivo prevalere di insediamenti demografici stabili è molto recente e si può collocare tra la fine del X secolo e la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi. La romanizzazione dei Germani federati ha allungato di qualche secolo la vita dell'impero romano, pur allontanandone la coesione. La costante, dalla preistoria all'alto medioevo, è che le migrazioni sono quasi esclusivamente un fenomeno coatto e collettivo, causato dalla necessità di appropriarsi di risorse altrimenti scarse e di trovare nuove terre per le esigenze demografiche. Nel 1492, il mondo allarga i suoi confini. Sono le scoperte geografiche a dare l'avvio ad una secolare e feroce migrazione coatta, quella del commercio degli schiavi. Il 1800 vede in Europa un'intensa crescita demografica e la conseguente crisi agraria del 1846 ha come risultato uno dei più massicci spostamenti di popolazione dell'età moderna, la grande emigrazione dalle isole britanniche, soprattutto dall'Irlanda, verso gli Stati Uniti e il Canada. Non a caso è proprio dall'Ottocento che gli Stati Uniti cominciano a diventare una potenza industriale e le nuove prospettive di sviluppo del paese rispondono al bisogno di milioni di emigranti europei. Dal secondo conflitto mondiale in poi sono cambiati i protagonisti, le condizioni economiche e demografiche dei vari paesi e di conseguenza la dislocazione dei luoghi di esodo e delle aree di destinazione. A partire dal 1989 la pressione migratoria sull'Occidente sviluppato si accresce in seguito al tracollo dei regimi comunisti nei paesi dell'Europa orientale che dà luogo ad una profonda crisi politica, a crescenti dissidi tra le nazionalità e ad enormi difficoltà economiche. Si libera così un enorme bacino di potenziali migranti che per evidenti ragioni di vicinanza geografica e di affinità culturale si rivolgono verso l'Ovest europeo dove democrazia, libertà individuale e il rispetto dei diritti umani si combinano a standard di vita tra i più alti del mondo. La caduta del muro rende possibili le migrazioni di lavoro dai paesi dell'Est praticamente inesistenti nel periodo precedente. Con l'inizio degli anni 90 i flussi di questo tipo divengono consistenti. Si tratta in larga misura di cittadini delle repubbliche dell'ex Jugoslavia e in misura ridotta di polacchi, albanesi, cecoslovacchi e ungheresi che si trasferiscono negli stati dell'Unione Europea, in particolare in Germania. Analogo processo migratorio si verifica dal Nord Africa verso l'Europa con motivazioni differenti. Dal dopoguerra il Marocco ha conosciuto un grande movimento migratorio verso l'Europa, determinato dalla decolonizzazione. Il processo migratorio è stato inoltre favorito dal forte aumento della popolazione che ha creato una carenza di sbocchi occupazionali. Negli ultimi anni più che di emigrazione si è trattato di fuga dalla guerra civile e dalla fame. L'emigrazione quindi è sempre di più non solo una questione che interessa la generalità degli stati europei, ma anche una delle principali ragioni d'essere del processo stesso di unificazione europea. Mai come nel secolo appena trascorso si è assistito al dirompente avvicinamento di popoli e culture e all'evoluzione dei rapporti socioculturali all'interno dei singoli paesi, soprattutto di quelli più industrializzati. Questo è stato il secolo del progresso tecnologico, dell'evoluzione dei mezzi di trasporto terrestre, nautico ed aereo, il secolo dell'esplosione dei mezzi di comunicazione di massa che hanno semplificato la circolazione dell'informazione. La globalizzazione sposta l'economia dei paesi più industrializzati sul terziario, ma l'incremento delle capacità di consumo non si accompagna ad una parallela crescita dell'occupazione, piuttosto ad un moltiplicarsi delle periferie più povere. La globalizzazione in economia è soprattutto un mercato planetario di beni, finanze, mano d'opera. Un fenomeno inarrestabile, di per sé né buono né cattivo, che può favorire lo sviluppo e il progresso anche nel terzo e nel quarto mondo, ma può esportarvi anche esclusione, emarginazione, povertà, sfruttamento dei più deboli e dei minori. In un mondo simile chi non può competere è perduto e poi esclusione o auto isolamento scelto da taluni paesi per difendere la propria economia e la propria cultura sono spesso le premesse di conflitti interni ed esterni. La globalizzazione diventa allora un fenomeno da governare secondo principi etici, i principi cioè della solidarietà, della giustizia, del primato dell'etica sull'economia e anche del primato della politica sull'economia. Internet, la rete delle reti, figlia della civiltà informatica e nipote di quella telefonica, si è man mano affermata non solo tra gli operatori della comunicazione, ma anche tra la gente comune, per effetto della facilità di accesso e della riduzione dei costi relativi. Essa ha ulteriormente ridotto le distanze tra gli uomini favorendogli scambi di informazioni, di notizie. Ma esiste vero scambio tra culture? Grazie.